Sala 3. Ritratto. Medardo Rosso e Marcus Rez, a distanza di un secolo, usano la luce per dare forma a ciò che vogliono ritrarre. Nella scultura di Medardo Rosso, la luce crea vibrazioni sul materiale solido, formando protrusioni e cavità in cui la luce stessa si può tuffare, creando ombre e riflessi sulla superficie. Marcus Rez usa un fascio di luce artificiale per generare ombre e creare attraverso di esse il profilo di una testa umana.